Un collare elettrico che ad ogni abbaio dava una scarica di elettricità. E' questo il motivo del sequestro da parte del Corpo Forestale dello Stato di un pastore tedesco di proprietà di alcuni cittadini di origine straniera residenti in una zona centrale di Arezzo. I proprietari dell'animale lo avevano spostato dal luogo di lavoro alla loro abitazione. Il cane però, come è normale che sia, baiava di continuo e di vicini pare si siano lamentati con i padroni. Quest'ultimi, nel madestro tentativo di tenere con sé l'animale nonostante tutto, gli hanno messo un collare elettrico, dispositivo vietato dalla legge che ogni volta che il cane abbaiava gli dava una scossa. Il povero animale, dietro alcune segnalazioni, è stato alla fine sequestrato dal Corpo Forestale dello Stato e sistemato in un box del canile municipale sotto stretto controllo dell'EMPA, che è l'ente a cui è stato affidato il regime di sequestro penale. Il cane, al momento dell'arrivo in canile, presentava alcune tracce di pussi in corrispondenza delle ferite. È un animale che ha subito un forte stress emotivo, ci racconta la presidente dell'EMPA, Tandra Capogreco, tanto che da quando è da noi non ha mai abbaiato. La funzione più naturale per un cane, cioè abbaiare, è stata stravolta, perché adesso l'animale in corrispondenza dell'abbaia associa il tremendo dolore che ha sentito quando portava il collare elettrico.